E ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Retentive e quella che vi porto oggi è la Top 5 Place of the Week, episodio numero 149, la Top 5 Place of the Week è la Top 5 in cui ci sono le vostre clip, quindi raga continuate a inviarcele a questa email che state vedendo a schermo perché la prossima settimana penso che metterò 10 clip per il 150esimo episodio. Passiamo subito al quinto posto raga, in quinta posizione troviamo una bella clip fatta da Castaldino che si trova con il suo Erad e ci fa veramente un disastro in mezzo alla mappa, ci rende 9 nemici se non sbaglio, ci fa comunque una kill chain molto bella questa kill in dropshot in cui annulla la ricarica e riesce a uccidere il nemico, veramente una bella azione, una bella giocata da parte di Castaldino che si merita tutto il quinto posto di questa Top 5, ecco qui l'ultima kill, poi purtroppo muore per colpa di un cecchino, i cecchini raga sono veramente overpower su questo gioco. Al quarto posto raga troviamo una bella clip fatta da Berga che si trova in 2v6, ci fa prima questa bella tripla qua su Genesis, poi muore il suo alleato quindi si trova in situazione di 1 contro 3, uccide prima un nemico, poi ne uccide un altro ancora, sente i suoni dell'altro nemico che comunque si sta muovendo e riesce a ucciderlo con questo bellissimo jumpshot saltando da un muro all'altro, veramente una bella bella kill, complimenti a Berga per la quarta posizione. Al terzo posto raga troviamo una bella clip fatta da Super Guccio che con il Brecci riesce a uccidere tutta la squadra in cerca di Struggi in meno di 10 secondi facendoci anche questa bella quad feed, quindi veramente complimenti a Super Guccio, la clip mi è piaciuta nonostante fosse col Brecci, per la creatività dello spot e per la clip stessa che è veramente molto bella, complimenti quindi. In seconda posizione raga troviamo una clip fatta veramente con una sculata paurosa da parte di Carlo Gamer che con l'SWG ci prende questa tripla one bullet, lui aveva visto solo un nemico, spara e le prende tutte e tre, veramente una bellissima clip, secondo posto meritatissimo. Ma raga al primo posto troviamo Demiu che si trova su Terminal Infinite Warfare, prima con il KBS Longbow ci prende un po' di kill, purtroppo c'è un piccolo split e poi riesce a entrare in feed, ci prende prima due nemici, swap al TF e ci fa una quad feed per 4 di swap, veramente una bellissima clip, purtroppo viene rovinata da un hit marker alla fine che sarebbe stato veramente ancora meglio, però purtroppo dopo l'hit marker ha dovuto ricaricare entrambi i fucili e si è ritrovato senza più nulla. Comunque riesce a farci anche la kill chain come avete visto. Niente raga, qui la top 5 è venuto il termine, io vi invito a lasciare un bel numero di like, da passare a tutti i link in descrizione, raga vorrei che questo video raggiungesse un bel numero di like e continuate a inviarci le vostre migliori clip a questa email perché raga prossima settimana farò un episodio XL e quindi vorrei tante clip. Niente raga, dare attenzione a tutto, bella. Finché ammazzati. Finché sparati. Quando arrivo devi farmi passare.